Viviamo in un mondo di estetica, ci deve essere il piacere della linea dell'auto d'epoca, non solo però, in questo caso faccio vedere una macchina che secondo me ha tutti i carismi e tutti i benefit buoni di una macchina che esteticamente piace per via delle curve, per via della sinuosità della carrozzeria, gli interni, è molto elegante e intrigante. Io le chiamo Evergreen, i sempreverdi. E la gioia e il beneficio che ti dà una macchina che è esteticamente bella, è una cosa che non è da sottovalutare.